ciao a tutti oggi vi faccio vedere una novità un po insolita questo è un power bank wiki da 10.000 mAh la forma è un po insolita per un power bank perché questo è un porta menù smart vi faccio subito vedere questo è un menù di esempio lo andiamo a inserire nel porta menù ecco qua per esempio in un ristorante dopo aver scelto la prenotazione guardando il menù possiamo ricaricare il nostro smartphone quindi abbiamo quattro porte usb due di qua e due di qua e qui sul retro lo andremo che abbiamo almeno perché è ingombrante e poi dietro la micro usb di ricarica con i quattro messe che indicano la carica residua del power bank vi faccio vedere il collegamento una volta collegato si accendono tutti i led di tutte le porte perché possono ricaricare contemporaneamente fino a quattro telefoni a due ampere a uscita quindi una ricarica veramente rapida e qua dietro la carica residua come vi dicevo prima indicato da quattro led blu sicuramente un bel prodotto tecnologico che non può mancare nessun ristorante al giorno d'oggi sia sempre uno smartphone a portata di mano e quindi consiglio a qualsiasi ristorante di fare questo upgrade per qualsiasi informazione contattatemi pure nei commenti e a presto su win blog